In gente di facili costumi interpreta il ruolo di Anna, cosa ci vuoi dire di questo personaggio? Beh, è una prostituta, sufficiente. Com'è stato entrare in questo allora personaggio tra le righe diciamo? È stato molto divertente, è una donna di facili costumi, è stato divertente anche perché lavorare con Pietro Longhi è divertentissimo. Io sono una prostituta, lui è un professore più o meno fallito, quindi è stato molto piacevole. E cosa apprezzerà il pubblico di questa coppia, possiamo dire, strana? Beh, innanzitutto il pubblico apprezzerà una scrittura bellissima di Nino Manfredi e Nino Marino, di una commedia che funziona, è un fuoco d'artificio, si ride dall'inizio alla fine, quindi apprezzerà le risate che si fanno e speriamo che apprezzino anche gli attori che lavorano insieme da parecchi anni e quindi insomma siamo ben affiatati. Si è creata una bella sinergia sul palcoscenico? Assolutamente sì. Quando va in scena al Teatro Roma? Va in scena dal 15 al 27 di ottobre al Teatro Roma, via Umberti e De Trecce e anche il parcheggio. Tre euri. Grazie. Grazie a voi, vi aspetto. Grazie. 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 Grazie.